Buonasera fratelli e sorelle bianconeri vincenti, stasera è andata benissimo, siamo andati a vincere a casa del diavolo come si dice per 0 a 2. Certo siamo stati con l'ansia fino a che non ha segnato Cristiano Ronaldo quindi quasi a 10 minuti dalla fine per paura, io avevo una paura di avere un'altra partita con la beffa finale perché questa partita non riuscivamo ancora a chiuderla. Pur avendola gestita bene ma ero un po' in ansia. Comunque all'ottavo minuto già il primo cross di Alexandro verso Manzuchic e Manzuchic da lì davanti non sbaglia e insacca e già siamo passati sul 0 a 1. Poi dopo un poco diciamo anche un altro tentativo di Cristiano Ronaldo per Manzuchic un'altra volta di Cancelo sempre per Manzuchic però in quelle due occasioni non siamo stati molto fortunati. Siamo arrivati poi al 38esimo dove il fallo di mano di Benatia ha procurato il rigore per il Milan. Allora io vorrei già dire una cosa adesso ci saranno tutte le varie polemiche perché tanto noi quando vinciamo ci devono essere sempre polemiche come se noi fossimo contenti di queste cose. Comunque ci saranno le polemiche perché Benatia era già ammonito quindi ci sarebbe stato il secondo giallo quindi doveva essere espulso e quindi dovevamo giocare in dieci bla bla bla. Fatto sta che Higuain che ci teneva tanto a farci del male stasera aveva una carica agonistica cattiva proprio e voi lo rimpiangete? Io no, non lo rivolrei neanche più alla Juve dopo le sceneggiate stasera. Comunque tira il nostro ex Pipita e Shesny che molti di voi tra l'altro ancora criticano perché non è da Juve para e manda in cioè devia il tiro e lo manda sul palo. E Guain si attacca al palo e andiamo gli spogliatoi nella pausa tra il primo e il secondo tempo sullo 0 a 1. Riprendiamo poi poco dopo con un di bala che ancora una volta ha preso un altro palo, l'ha scheggiato un altro palo, tra un po' le porte sono tutte scheggiate e se lui non ci prende un pochino sotto misura qui le porte le scheggerà tutte. Comunque scherzi a parte fino all'ottantunesimo diciamo abbiamo sempre gestito perché il Milan non ha fatto grandi cose diciamo la verità Shesny è stato molto impegnato a parte il rigore. Finalmente all'ottantunesimo Cristiano Ronaldo su tiro di Cansello respinto Cristiano Ronaldo da lì avanti non sbaglia e chiude una saracinesca una pietra tombale sulla partita e tutti a casa. I milanisti già cominciavano a scendere dagli spalti e ad andarsene verso casa sconfitti e sconsolati. Io vorrei dire dopo due minuti sul fallo su Benatia lui già aveva protestato violentemente, era stato ammonito dall'arbitro, ha insistito e è diventato una belva che non riusciva nessuno a tenerlo, a controllarlo né i suoi compagni né gli ex compagni che bonariamente hanno anche cercato di calmarlo. Io sinceramente non lo rivorei neanche più alla Juve per la sceneggiata, la pagliacciata che ha fatto stasera. Io mi aspetto almeno tre giornate di squalifica, forse ne entreranno solo due ma comunque non mi è piaciuto assolutamente la sua reazione così violenta, così rabbiosa nei nostri confronti. Comunque questa era tutta la sua carica agonistica che aveva stasera, ma sbaglio rigore, Cristiano Ronaldo segna, la partita è finita, abbiamo vinto e lui è stato espulso. Una scena bruttissima. Comunque sia, io ripeto, non lo vorrei più, voi lo rimpiangete, vabbè. Noi il migliore acquisto ce l'abbiamo già, è CR7 e tutta la squadra che gli intorno è meravigliosa. Dobbiamo registrare e migliorare sicuramente ancora delle cose, spero che Allegri lo farà. Comunque sia, Allegri tra l'altro, che altro criticato sempre dalla Juve, stasera ha detto che gli giornalisti sarebbero a far finita di starsi ad attaccare ogni volta a tutti i minimi episodi, la Juve ha fatto una buonissima prestazione, punto, e basta, perché se continuate non vi rispondo più. Ha tirato fuori un po' di maroni. Comunque il migliore in campo è sempre CR7. Io, come, non sento, come gli interisti? Ah, se no, non sentivo più gli interisti. Allora, vi volevo dire che ho spiato un interista che oggi stava facendo un balletto strano, così l'ho guardato, ho osservato bene il balletto che stava facendo e ho deciso di riproporvelo. Quindi se volete vederlo, venite nella mia pagina, Juve nel mio sangue bianconero, perché l'ho mimato. Ovviamente è uno scherzo, se volete, però il balletto c'è, dedicato a tutti gli interisti. Una cosa molto simpatica e molto spartana, però se vi piace venite a vederlo. Ragazzi, siamo ancora primi. Chi ha goduto di noi oggi se l'è presa bene bene in quel posto, chi ha goduto l'altra sera per la nostra sconfitta oggi se l'è presa bene bene in quel posto. Il Napoli ha vinto golle, vabbè, che non c'era, rigore non dato. Lasciamo perdere le solite manovre e poi si vengono ad attaccare con noi per la cosa di Benatia. Il secondo giallo, tra virgolette, mancato per Benatia. Lasciamo perdere le polemiche stanno a zero. Abbiamo vinto, avanti tutta, forza Juve fino alla fine. Da Emanuele a Juve nel mio sangue bianconero. Ci vediamo alla prossima dopo una lunga ancora pausa, altri dieci giorni almeno. Ci vediamo alla prossima, ma comunque stiamo tutti sereni e vincenti. Ciao a tutti, vi voglio bene!